A stalla vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo Goku Super Saiyan Full Power in tanta tanta compagnia Infatti raga qui al Palazzo del Supremo abbiamo appunto Gohan, Krillin, Junior, Mr. Popo e anche ragazzi il nostro caro nuovo Supremo Dende E si ragazzi perché nello scorso episodio il piccolo Dende è diventato il nuovo Supremo e sono contentissimo di questo Comunque oggi ragazzi siamo qui per andare a provare il nostro carissimo Goku Super Saiyan Full Power Goku insomma trasformato in questa maniera con il Super Saiyan del quarto stadio Non lo abbiamo ancora provato ragazzi così come è adesso quindi ci tengo davvero a provare questa trasformazione Che diciamo è un po' strana perché in realtà non ci trasformiamo in battaglia ma Goku è già trasformato Infatti ragazzi questa trasformazione differisce molto dalla vecchia trasformazione Super Saiyan Perché primo raga è molto molto più potente e poi appunto non bisogna più sfruttare il discorso della rabbia e della collera Per trasformarsi ma si è già trasformati e si controlla appieno la trasformazione infatti si è molto calmi e tranquilli E tra l'altro c'è un minor dispendio di energie con il Super Saiyan attivo Quindi ragazzi è una trasformazione davvero molto molto efficiente E visto che questa trasformazione ce l'ha proprio Goku e anche Gohan Ed è lui raga il personaggio principale del gioco e lui il personaggio insomma il protagonista di Dragon Ball E' ovvio che lo andiamo a provare infatti non lo abbiamo ancora fatto e lo facciamo oggi in questo episodio Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare se non l'avete visto Lo scorso episodio in cui ragazzi siamo andati a continuare e abbiamo anche concluso finalmente La scorsa missione storia che è stata davvero lunga Abbiamo visto che Cell ha distrutto la guardia reale insomma l'esercito I cacci, i carri armati e i soldati Goku ha deciso di andare a prendere un altro Namecciano da Namek E appunto farlo diventare il nuovo Supremo E' andato a prendere Dende e lo ha portato qui E il nostro caro Dende ha già ripristinato e potenziato le sfere del Drago della Terra Quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio Mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati Detto questo adesso ci concentriamo sul nostro caro Goku Super Saiyan Full Power E prima di andare a fare delle battaglie e appunto distruggere i nemici Vi faccio vedere un po' le abilità che abbiamo e anche le trasformazioni Abbiamo la Super Kamehameha, la Kamehameha guidata Carta forbice sasso definitivo e la sfera Genki Dama Poi ragazzi come appunto trasformazioni abbiamo Super Saiyan Quindi appunto la trasformazione non è cambiata Cioè nel senso noi sappiamo che è la trasformazione Super Saiyan Full Power O appunto Super Saiyan del quarto stadio Ma qui il gioco non ci dice che ci sono dei cambiamenti Ci dice semplicemente Super Saiyan E poi ragazzi qui abbiamo anche il Kaioken che non utilizziamo da parecchio tempo Ma siccome oggi dobbiamo provare Super Saiyan Full Power Il Kaioken lo lasciamo stare Lo riprenderemo qualche altra volta Comunque ad esempio ragazzi qui i dettagli qui sotto ci dicono la stessa cosa Che ci dicevano per l'altro Super Saiyan Il primo, quello normale Quindi qui il gioco diciamo che non è molto preciso Anche se mi piacerebbe che il gioco fosse più preciso sulle varie trasformazioni Ad esempio Super Vegeta non veniva neanche contata come una vera e propria trasformazione E non sappiamo neanche se vedremo mai quella trasformazione su Vegeta Poi lo scopriremo Comunque ragazzi io direi che possiamo andare subitissimo Apriamo la mappa Facciamo vai alla mappa del mondo E ragazzi scegliamo accuratamente un luogo dove andare a fare delle battaglie contro dei nemici casuali Ok ragazzi ho scelto Kame House Andiamo in questo luogo troviamo dei nemici e distruggiamoli Quindi vai Sì E rieccoci qua ragazzi alla Kame House Dopo parecchio tempo adesso troviamo dei nemici Già trovati subitissimo dei nemici Abbiamo soldati di Freezer e Robot insieme Quindi ragazzi ci va benissimo Basta che ci scateniamo e proviamo per bene questa trasformazione Quindi venite da me cari soldati di Freezer Venite a essere distrutti Raga subito è arrivato uno Vediamo un po' ragazzi Vediamo un po' Allora stiamo attenti ovviamente Possiamo fare ragazzi già la scarica Quindi l'andiamo a fare permettendo questi robot Ecco qua ragazzi Mamma mia una figata ragazzi Vedere Goku Appunto con questo suo G E non con gli abiti di Yardrat Che sono anche quelli molto belli Con appunto Raga il Super Saiyan Full Power Mamma mia comunque che casino raga Facciamo Super Kamehameha Mamma mia ragazzi La facciamo a raffica Guardate è già distrutto raga Già distrutto Porca miseria Vai Super Kamehameha ragazzi E la madonna Siamo troppo troppo potenti raga Ok E' appurato raga Goku è troppo troppo potente Poi questi insetti qui Questi soldati di Freezer Cosa potrebbero mai farci C'è raga praticamente nulla Comunque raga Andiamo subito a malmenare un robot Perfetto Stiamo attenti Stiamo attenti Andiamo a ricaricarci raga Ok Perfetto Facciamo Kamehameha guidata ragazzi Lo becchiamo Distrutto Fine Sai dovresti allenarti di più Ha ragione Goku 13.000 ragazzi Di esperienza Grado S Mamma mia ragazzi Spero che il nostro caro Goku Sia davvero soddisfatto Dei risultati appunto Che ottiene nei combattimenti Sì contro queste mezze cartucce Però spero che comunque sia soddisfatto Comunque raga Davvero mi piace un botto Goku come personaggio La trasformazione sembra davvero ottima Poi ovviamente con la scarica Ancora di più Cioè ci divertiamo un botto raga Distruggiamo i nemici Come niente Ovviamente mi fate sapere la vostra Ma adesso andiamo a fare Un'altra battaglia Ok ragazzi Trovate altri nemici Questa volta Robot del Red Ribbon Ci vanno benissimo L'importante è combattere E divertirci Oh bene Eccoli qua ragazzi Proprio in faccia ci arrivano Sempre così Sempre così Mi raccomando Raga partiamo subito Con una bella combo Mamma mia Vai Goku Dagliene tante Attenzione Leviamoci Mamma mia ragazzi Super Kamehameha E levati Distrutto ragazzi Mamma mia raga No Veramente Cioè io ti manco di stucco E pensare tra l'altro Che Goku in questo momento Non è neanche arrabbiato Cioè è tranquillissimo Infatti questa trasformazione Si basa proprio sul fatto Che Goku è calmo Cioè è trasformato Ma deve mantenere la calma Deve mantenere la trasformazione Non si deve incazzare Kamehameha guidata ragazzi Subitissimo Cioè raga Ma sono delle mezze cartucce Non potrebbero mai farcela Contro Goku E poi tra l'altro Raga questo è un ottimo allenamento Per poi quando faremo Il combattimento contro Cell Al Cell Game Quindi È anche un po' Un allenamento questo Allora raga Vediamo un po' Che cosa combinare Tra l'altro Se la vita sta scendendo Ragazzi È semplicemente perché C'è la maestria Quella che abbiamo Sbloccato su Goku Parecchio tempo fa Comunque Stiamo attenti raga Ok andiamo subito Contro questo robot Vai vai Goku Dagliene tante Vai Bravissimo Dai ragazzi Facciamo super Kamehameha Devastante Fine Eh già finito Oh ragazzi 12.000 di esperienza Grado S Mamma mia Raga Mamma mia Cioè Goku Impassibile Cioè ha distrutto Tutti quei nemici Impassibile Cioè Credo si sia divertito Non lo so Perché Sta trasformazione Un po' Non ci fa capire nulla Perché Goku è calmo È così Bello dritto Quindi non è che ci capiamo tanto Mentre con Super Saiyan Quello vecchio Il primo tipo Insomma Quello del primo stadio Capivamo che era incazzato E basta Cioè aveva la collera In quel momento Come contro Freezer No? Sul pianeta Namek Quindi ragazzi Insomma Io sono molto soddisfatto Di questa trasformazione Della nuova potenza di Goku Che ragazzi Poi vedremo in azione Prossimamente Quando arriveremo al Cell game Quindi vedremo tutta la potenza Di questa trasformazione Proprio contro Cell E non vedo l'ora di arrivarci Perché voglio fare il culo a Cell Con questa trasformazione Poi raga Credo che Se ci sarà la possibilità di farlo Proveremo anche Gohan Con Super Saiyan Full Power Dato che lui È il personaggio Diciamo più importante In questa saga Dato che sappiamo Che sconfiggerà Cell Quindi voglio provare anche lui Con quella trasformazione Tra l'altro Devo dire che fa molto strano Vedere Goku Già trasformato Quando in realtà Io sono sempre stato abituato A far trasformare Goku Quando inizia la battaglia Cioè appunto È abbastanza strano Vedere Goku In queste condizioni Già trasformato Te ne vai praticamente In confusione Quando inizia la battaglia Puoi solamente fare la scarica Quando possibile Ma non ti puoi trasformare E credo che Se si attiva il Kaioken Si toglie il Super Saiyan Perché ragazzi Comunque Il Kaioken Come trasformazione È disponibile Quindi se l'attiviamo Si toglie il Super Saiyan Full Power Non l'ho voluto fare Ma sono convinto sia così Mi raccomando Fatemi sapere la vostra Su tutto questo episodio Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questa trasformazione Di Goku Il Super Saiyan Full Power Ho detto anche Super Saiyan del quarto stadio Fatemi sapere se vi piace O meno E ragazzi Fatemi sapere Se secondo voi È una trasformazione Utile E ultra potente Perché io ragazzi Credo che Sia una trasformazione Molto utile Assolutamente Ha senso come trasformazione Non è grossa È molto agile Il personaggio Con la trasformazione Quindi Non rallenta i movimenti E credo che Risparmi un sacco Un sacco di energie E quindi può Scatenare poi Quelle energie Contro il nemico Quindi ragazzi Assolutamente Una trasformazione Vincente Quindi ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E che vi abbia Anche un po' divertito Se volete ragazzi Lasciate un like Condividete Iscrivetevi Se non siete iscritti E ricordatevi sempre Che io Tornerò E ricordatevi sempre Che io